Siamo pronti? Pronta? Sì, sono pronto. Andiamo, dobbiamo andare a comprare le cose per l'orto e per un'altra cosa che non vi sveleremo ancora che cosa stiamo facendo. Va bene, andiamo. Finalmente siamo arrivati perché Erika si sceglie sempre dei posti un po' comodi, diciamo, eh? Sempre molto comodo e bello. Sì, però è ben fornito. Bello, bello, bello. E non so se qualcuno se lo ricorda, ma qui ci avevamo creato un video, forse tre anni fa. Il video che le dice diceva quali piante sono venute in mostare gli americani? Quel video li giramo. Molto bello. Quindi qui dove faccio? Eccolo qua. Questo è il nostro orto. È sulla carta? Cioè, è proprio sulla carta il nostro orto. Ma poi? E poi va piantato. Guarda che belle margherite. Praticamente Erika voleva essere servita e lei ci hanno detto guardate che potete fare da soli, quindi prendetevi il carrello e fatevi la presa. Io voglio essere servita. Come mai? No, è perché facevo prima. Guarda, guarda. Pronta, Prince. Guarda come sei bella. Dove andiamo adesso? Andiamo a vedere i cosine per l'orto. Pronta? Attaccati qui, eh? Attaccati qui. Forte, 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 vai. Mi sembra Kylie Minogue con questo cappuccio in testa. Seconda serra a destra. Seconda serra a destra. Questo è il cammino. Ecco, seconda serra a destra ci sei. Attenzione allo scalino. Ok, vai. Quattro, 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 quattro. Stiamo discutendo su quale pomodori prendere. Noi li facciamo. Kylie. Kylie ti sarebbe stato bella come nome, vero? Sì, sì. Sì, sì. Andiamo? Ma invece il piccadirvi e il grappolo. Questa spesa è tutta per me, pane e pomodori. Cos'hai visto? Cos'hai visto, Link? È il signore della serra, eh? Questa qui è la casa di quel signore. Vive qui, in mezzo alle piante, con questo trattore. Guardiamo il trattore? Arriva? Eccolo, veloce, guarda! Guarda, 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 guarda! Ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao, signore col trattore! Ciao, ciao! Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe Quattro li mangerai quest'anno i burtinelli O meno un buifo Tocci tocci Fai piano Tocci tocci E la mamma Sta mettendo tutte le piante del tuo orto E sono molto belle Mamma ma poi le piantiamo insieme Queste piante Lasciamo fare la buca a Lorenzo E tu le pianti Solo che Lorenzo fa un catere Quando fa le buce Dov'è? Buzzi Come fa il cane? Come fa il cane? Come fa il cane? Come fa il cane? Il cane come fa? Questo è il pesciolino Altre piante? Sì Fragola Si chiamano fragole perenni Cioè Quando fanno i frutti Non muoiono mai Sono quattro stagioni Ah ok Il ginevo Le strappa invece Però dopo muoiono Certo Certo Cici mamma ti deve insegnare A rana strade Non a strappare È pieno di acqua Guarda Veloce È pieno di acqua Guarda Non sai perché c'è tutta quest'acqua? Tutta quest'acqua c'è perché nelle piante si nutrono di acqua e di ossidio e di nutrienti della terra Hanno bisogno di acqua per sopravvivere Ciao ciao pianta Quattro zucchine scure Ok adesso siamo alla ricerca spasmodica delle melanzane Melanzane non si trovano Tu vedi le melanzane? Ci sono i meloni Ma non ci sono le melanzane Come fa il cane? Come fa il cane? Come fa il cane? Oh vi giuro che sa fare il cane È che adesso non lo vuole fare perché è timida Come fa il cane? Quello è il pesce Eh cane Bau 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 Sì brava fa bau bau il cane Tanto tempo fa avevamo messo anche quello greco Quindi prendiamo una piantina di quello greco Che ha le foglioni più fine, più piccole E per genera forse per tagliarla è meglio È questo normale che tutti conosciamo no? Sì quello prendiamo Lo prendo? Guarda che bello questo mandarino Dov'è che vai Kylie Minogue? Ciao Kylie Ciao Kylie Minogue Eh sono le piante Non so quante Ce ne sono tante eh Non è calpestabile amore Non è calpestabile Guarda che bel pratino Vendono il pratino già a pezzi Con mattonelle Molto gentilmente Ma dove state andando? Non lo so Come non lo so Non lo so Mi sta accompagnando lei Lei ti guida? Sì Non è calzare da voi in queste avventure Visto che soffro di allergia Venire in questo vivaio Non è stata proprio una grandissima idea Ti distrai un attimo ed eccola qua Ti avevo perso Guarda che bella pianta di limoni Che stai guardando? Questa pianta è qua Come mai? Questa mi piaceva Però devo capire che cos'è C'è scritto Ah no libero Questa è la cannella Libero Niente Il mio pollice verde fa paura eh Cosa c'è? Bau 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 Adesso andiamo a prendere a casa Bau bau Eh Non lo potevamo portare qui Bau 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 Guarda che bell'albero Wow Quasi un baob Siamo inseguendo la mamma La mamma vuole comprare una pianta Che si allarga Riusciremo a comprare una pianta Che si allarga Anzi tua mamma riuscirà a trovare Una pianta che si allarga In questo posto qui Oh non state morta E' stata pianta Scusa non ho dato più rispetto Perché è vero E' un limone E' un limone Amore che sono i limoni Guarda E' un limone E' un limone E' bello Non si può toccare però Spiegami perché ho deciso di Venire con voi qui Ma non si può toccare Ma è un limone Ma ti faccio Scusa Anzi E' un limone E' un limone E' un limone No O Abbiamo finito di prendere, ma devi piantare Ma lei ha il chisto per piantare, per fare la tappetta, ha tutto? Sì, sì, basta che non mi erano più che Facciamo fare le buche a Lorenzo, te l'ho detto, Lorenzo fa le buche e lei pianta Sì, sì, vero? Anche me ne passi Lorenzo fa le buche e tu pianti Salire in pespia, soffri Dai, Eric, dobbiamo andare via Bello questo cactus Però dai, vieni che dobbiamo andare via Io non vengo da giù, eh Noi non veniamo Ti e Ginni andiamo Ok Io vengo qui, l'ho messo così vicino Tra la mensola e il frigo Ma veramente stai facendo? Sì Io ti ho appena non va Eh Sei qui? Eh sì, sì, ciao Ciao Ciao, grazie per averci dato queste piante Ciao, ciao A qualche papà gli sta lacrimando il naso Il naso papà, lacrimando Eh Il naso Puoi scendere? Tanti molto carini perché ci hanno regalato la carta per non sporcare la macchina Via Tutto è dentro e andiamo a piantare l'orto Che cosa l'avevi messo sul bagagliano? Anche il peggio Ale Pronti? Vai, sali in macchina Siamo arrivati a Casina Allora Siamo arrivati a Casina Ascensate la testa, facciamo l'ultima volta Olè Cintura di sicurezza, uno Cintura di sicurezza, due Ma mettila bene, così non hai messa la cintura di sicurezza C'è la spalla Allora, finiamo C'è la spalla Ed ecco qua Qui non è che mi sembra tanto, vabbè L'altro cintura di sicurezza Cintura di sicurezza, tre Cintura di sicurezza, quattro Che risoro? Che risoro ti ho fatto? Eh? Che risoro ti ho fatto? Sette Sette? Sì Ti devo rivecenare Che giù è successo